Bene, allora da questo momento siamo in diretta, vediamo se sono le 18, siamo un po' in anticipo, allora aspettiamo ancora qualche minuto, poi questa parte Claudio la cancellerà, diciamo quella non ufficiale, quella non ufficiale, d'altra parte meglio far prima. Ma sale d'attesa uno, Claudio? E non lo so, vediamo un po'. Che sia Claudio alla fine? E non viene fuori, sale d'attesa. E lo so, l'ho messo. Non ammetto proprio nessuno. C'è sala d'attesa uno, non è entrato. Vuoi venire tu? Ho uno in sala d'attesa che non... Ah, Stefania Poli, chi è? Conoscete? Sì, conosco io. Allora la metto? Va bene? Tu vuoi, sì, guarda. Aspetta che è sparita di nuovo. Ah, ok, niente, allora seguirà. Ma è sparita, mi dispiace. No, niente, ma che lo seguirà tramite Facebook. Allora, sono le 18. Iniziamo. Buonasera a tutti, grazie a tutti coloro che ci sentono e che ci seguono. Oggi abbiamo con noi Tiziano Bellini, presidente della delegazione ANVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Cremona. Porto i saluti del nostro presidente del comitato ANVGD di Milano, assente per importanti motivi istituzionali. E porto anche i saluti del nostro grande Lorenzo Salimbeni, che avrebbe dovuto essere qui con noi oggi e lui invece per gravi impegni familiari non è potuto essere presente. Ma abbiamo con noi Francesco Carrera, che è l'elemento portante della serata di oggi, dell'incontro di oggi. Allora, Francesco Carrera, lo vedete tutti, è giovane. Io lo presento molto brevemente, vedrete poi che lui inquadrerà la sua tesina. L'abbiamo conosciuto attraverso Tiziano Bellini e lo ringraziamo per questa segnalazione che ci aveva fatto. Io ho visto la sua segnalazione. Tiziano, se vuoi dare anche tu un saluto, chiaramente, poi introduciamo Francesco. Tiziano, vuoi rispondere a un saluto? Ringrazio. Sì, mi sentite? Sì. Ecco. Sì, no, sarò molto breve. Un saluto a tutti e un grazie a Anna Maria e anche a Francesco. Quando ho letto il suo racconto riportato sul quotidiano qui di Cremona, ho ritenuto una cosa veramente importante, farla conoscere anche alla nostra associazione, anche ad alta gente, perché è un racconto molto importante, molto sentito e poco conosciuto. Ecco, per cui ringrazio Francesco di questa bellissima sua tesi e non è finita qui, perché lo inviteremo anche ad altre serate, anche qui vicino a Castelvetto, Cremona, non preoccuparti e andremo a disturbarti ancora, perché è una storia che merita di essere raccontata e sentita. Ecco, è una cosa diretta, per cui io non mi dilungo, lascio la parola ad Anna Maria, poi a te che ci racconti tutta questa bellissima e promuovente storia. Allora, tu Tiziano hai detto una storia poco conosciuta, io direi una storia. Già la nostra storia è grandemente sconosciuta, purtroppo. Quindi questa è una storia sconosciuta nella storia sconosciuta, quindi bisogna veramente farla conoscere. Per cui siamo veramente molto, molto contenti e onorati di avere con noi Francesco, che ha iniziato la sua tesina con queste parole. A mio nonno Luciano, l'esperienza che ha compiuto è qualcosa di straordinario ed io ho deciso di raccontarla per onorare la sua memoria. È una cosa bellissima Francesco. Allora, raccontaci che cosa è avvenuto in quell'agosto del 1953. Era agosto mi pare, vero? Sì, esattamente, dal 9 al 18 di agosto. Intanto permettetemi di ringraziarvi per ringraziare l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Tanna, Maria, Tiziano, per questa opportunità che mi state dando di poter raccontare quello che è un ricordo personale di mio nonno e dell'esperienza che ha vissuto con i suoi amici, i famosi 5 Ergonauti. Non vi nego di essere emozionato nel raccontarla. Vi condividerei lungo la serata queste che sono alcune slide di frammenti di giornale e delle foto dell'epoca. Partirei principalmente, vorrei ricordare, la motivazione che tu hai ben menzionato come apertura della serata, ovvero il fatto che sostanzialmente per me è stato l'argomento della tesi, della tesina della maturità, che ho sostenuto presso il liceo classico linguistico di Crema, Alessandro Racchetti, e per l'argomento appunto verteva, bisognava individuare un argomento che, perché al tempo c'era ancora la tesina, la famosa tesina di maturità. In quel periodo era il 2012 e con i miei genitori stavamo sistemando quella che era la casa dei miei nonni e ordinando tutte le varie cose e sostanzialmente mi sono imbattuto in quelli che sono alcuni quadri che raffigurano mio nonno e i suoi amici che sono alla... Aspetta, guarda, ci si è in carrotta la condivisione. Adesso dovrebbe vedersi... Esattamente. Questi che sono i quadri che mio nonno, che raffiguravano mio nonno con i suoi amici che hanno affrontato questa esperienza. E sostanzialmente diciamo che grazie anche all'aiuto dei miei genitori, i quali devo tanto nella vita, ma anche per questa esperienza e anche per il ricordo che mi hanno donato di mio nonno, di una persona molto intraprendente, coraggiosa e determinata in tutte le attività che svolgeva nella sua vita, sono riuscito, diciamo, per me era il modo per poter onorare al meglio la sua memoria. Diciamo che i giovani sono i famosi cinque argonauti, sono definiti argonauti, per questo mi sono documentato perché gli argonauti erano coloro che accompagnarono Giasone nel recupero, dunque ci riferiamo a quella che era la mitologia greca, al recupero di quello che era il vello d'oro, un mantello molto particolare. E i cinque argonauti erano appunto mio nonno Luciano Carrera, Aldo Magri, Valentino Marimoni, Carlo Rossi e Mario Zagini. Avevano un'età, il più giovane aveva 26 anni e il più grande ne aveva 32 all'epoca. Posso dire che la loro fu una scelta di questo periodo, non è casuale. Infatti il loro desiderio di portare una testimonianza alla fine di solidarietà, di amor patrio alla città di Trieste, che avvenne tra il 9 e il 18 di agosto, periodo classico nel quale avevano le vacanze per gli italiani. Infatti i cinque erano cinque operai, i quali vennero a conoscenza di questa situazione molto delicata per la città, per il territorio libero di Trieste dell'epoca attraverso esclusivamente i giornali e la radio, perché diciamo che i mezzi di comunicazione erano molto ridotti e anche la loro conoscenza era appunto limitata a questi mezzi di comunicazione. Allora scelgono di investire quelle che erano le loro risorse fisiche ed economiche in questo viaggio e decidero, la cosa curiosa era il fatto che decidero di farlo attraverso un gommone. Questo gommone, il canotto, era molto esiguo, era un gommone di una lunghezza di 6 metri e di una larghezza più o meno di 2 metri e diciamo che alla fine lo comprarono loro e grazie all'aiuto di qualche attività commerciale della città che decise di sostenere la causa dei giovani argonauti. Il tutto appunto abbiamo detto che si colloca nel periodo di agosto. Inizia non proprio il 9 di agosto ma il 2 di agosto. Nella settimana antecedente alla partenza i giovani decidono di esporre quello che è il loro mezzo il quale affronteranno il loro ride in città e dunque tutta la cittadinanza avrà modo di vedere quello che appunto è il famoso canotto che recava anche delle scritte molto particolari e da una parte c'era riportato il nome di Trieste e dall'altra parte anche il nome di Crema per simboleggiare questo viaggio che stiamo per intraprendere. La settimana successiva, quella del 9 agosto, domenica 9 agosto, tra le 8 e le 8.30 secondo le ricostruzioni. Infatti le ricostruzioni le ho prese da più giornali, le ho tratte a più giornali. Infatti differenti giornali, anche non solo testate locali come il nuovo Torrazzo o la provincia di Cremona e di Crema, ma anche l'Italia, l'ora Italia che era oggi l'avvenire e il Corriere della Sera raccontarono dell'esperienza e del viaggio di questi giovani. Sostanzialmente i giovani partirono appunto da Piazza dell'Uomo alle ore 8 e 8.30 della mattina nella quale ricevettero da parte del sindaco, il cavaliere Pagliari, Virgilio Pagliari, la pergamena che dopo vi darò lettura del testo di questa pergamena. È molto significativa che era sostanzialmente la testimonianza e la vicinanza di Crema alla città di Trieste e ai Triestini. Diciamo che questo, quello che posso anticiparvi, è il legame. Il legame e la motivazione per il quale i giovani sentirono il dovere di compiere questa esperienza. Sostanzialmente si può legare a quello che fu il periodo dell'invasione e dell'assedio del Barbarossa alla città di Crema. E dunque loro diciamo che videro in questa situazione che la città di Trieste stava affrontando quello che la città di Crema aveva vissuto qualche tempo prima, parecchio tempo prima. E i giovani partirono dal ponte di ferro di Crema la stessa mattina. Furono aiutati da alcune persone che affollarono quello che era il ponte e anche il canale del Serio e iniziarono il loro viaggio. Questo viaggio diciamo che durò una decina, nove, dieci giorni. Infatti fecero prima al Serio, poi affluirono nell'Adda, successivamente nel Po e poi risalirono appunto arrivando fino a Trieste. I primi giorni dei giovani furono particolari, arrivarono il primo giorno, arrivarono fino a Montodine, da lì entrarono appunto, affluirono dal Serio, che passarono all'Adda e si fermarono a Crotta d'Adda, una località appunto sulle sponde del fiume Adda. Il giorno successivo, il Canotto, il giorno del 10 agosto, ebbe qualche difficoltà a navigare in quanto l'acqua era molto bassa e soprattutto nel passaggio tra l'Adda e il Po. Passarono da Cremona e successivamente pernottarono a Casal Maggiore, che è una città poco distante da Cremona appunto. Il giorno successivo sono a Borgofiore di Mantua e poi dall'11 al 14 non si hanno più notizie, diciamo, di quello che i giovani o comunque fecero questo del viaggio intraprese. Si sa solo che il 14 furono accolti a Venezia da parte del sindaco e anche da tutta la città e dai turisti che erano incuriositi di questi quattro giovani che alla fine con solo l'ausilio di quattro remi e di una vela che gli fu donata dall'amministrazione comunale di Crema stavano compiendo questo viaggio. Due dei cinque giovani, tra questi due giovani erano mio nonno Luciano e il signor Carlo Rossi furono ricevuti nel municipio a Caffassetti del comune di Venezia e donarono al sindaco un'elegantissima pubblicazione dei monumenti di Crema. Ricordiamo che Crema, da un punto di vista storico, dal 1449 al 1797 fece parte della Repubblica di Venezia, la famosa Serenissima. Successivamente i giovani ripresero il loro viaggio e il giorno successivo arrivarono a Grado e da Grado pernottarono verso il circolo Ausonia. Infatti diciamo che il circolo Ausonia è quello che ho potuto approfondire, diede loro dei viveri, infatti i giovani avevano solo appunto una damigiana di vino e alcuni viveri per il viaggio quando erano partiti a Crema, trada facendo diciamo che hanno trovato aiuto e solidarietà da parte della popolazione che hanno incontrato lungo il viaggio. Successivamente arriva il momento più delicato che è sostanzialmente il passaggio da Grado a Trieste. Infatti la famosa Bora si alzò molto forte sul mare e l'esile gommone fu trascinato verso il mare aperto. Dunque in quel momento si concretizzò per i cinque giovani la possibilità di finire in terra manica, soprattutto nelle mani di Tito. Fortunatamente per loro si furono intercettati da una motovedetta della polizia e questa gli scortò in porto fino a Trieste. Dunque il giorno 18 giunsero a Trieste e furono ricevuti da un assessore, per le cronache del tempo era denominato l'assessore anziano in quanto non era presente il sindaco e loro donarono all'assessore appunto la pergamena. Se mi permettete vi do lettura di quella che era la pergamena che appunto ha un significato dietro, c'è un significato che vi ho anticipato in precedenza. Il popolo di Crema che ha sediato tra le antiche mura udì e trafisse i figli suoi appesi alle torri ossidionali del Barbarossa. Oggi ad animosi argonauti affida il suo messaggio d'amore augurale di nuova liberazione nel nome dei fratelli d'Italia. Si fa riferimento appunto all'assedio del Barbarossa fra 1159 e 1160 nel quale il Barbarossa aveva aissato delle torri ossidionali e su queste torri erano stati posti dei prigionieri cremaschi. Ma la città fece qualcosa di forte per l'epoca. Infatti i cremaschi resistessero all'assedio del Barbarossa ma colpirono le torri, dunque uccisero anche dei loro concittadini ma al fine di difendere la città. E dunque lo stesso augurio era al fatto della città di Trieste di non demordere, comunque di augurarsi che per loro potesse arrivare da lì e poi si vedrà che da lì a breve arriverà la famosa amnessione definitiva e comunque al territorio italiano. E i giovani appunto la loro speranza era proprio quella che per la città di Trieste succedesse la stessa cosa che era successa per la città di Crema. L'ultimo aspetto che mi sento in dovere di citare che mi emoziona parecchio è il fatto che a uno dei quattro successivamente che furono, ecco appunto questo era tutto il percorso che avevo da mappa e sono stati parecchi chilometri che i giovani hanno percorso un breve aspetto a sottolineare che i giovani riuscirono, i quattro argonauti i cinque argonauti riuscirono nell'impresa che non era riuscita invece a quattro giovani coraggiosi pavesi che qualche mese prima provarono a fare la stessa attraversata solamente da Pavia fino a Trieste ma purtroppo dovettero abbandonare prontamente la loro idea di fare questa impresa poiché per le condizioni avverse. E successivamente diciamo che i giovani rientrarono, una volta rientrati ci fu uno di loro che menzionò oltre alla grande paura che potevano avere nel poter finire nelle mani di Tito, quella che è una frase molto significativa Il sole ci ha asciugato i polmoni e i portafogli Trieste però ha bagnato i nostri cuori e ci ha fatto piangere Questa diciamo che è molto emblematica per quello che è stato il loro viaggio e significativo per il fatto che questi giovani davvero credevano attraverso un semplice gesto, quello della consiglia di una pergamena di poter trasmettere quella che era la solidarietà in questo caso della città di Crema ma probabilmente dell'Italia intera nei confronti della città di Trieste. Quello che è da riconoscere e da ricordare è che vent'anni dopo è stato fatto tramite la provincia, sono stati ricordati quello che era stato il loro viaggio e diciamo che questo era stato un po' molto importante anche per loro per dare ricordo quello che era stato la loro attività, il loro viaggio molto significativo e carico di emozioni Appunto questa è la foto della pergamena e poi ecco appunto quello che era un'intervista che è stata fatta nell'agosto al loro rientro dall'Italia dunque comunque un quotidiano nazionale per quello che era stato il loro viaggio appunto nell'agosto del 1953 Questo è un po' ecco, Anna Maria, il racconto di quello che è stato questa loro esperienza che personalmente mi ha colpito soprattutto per come fossero stati temerari nell'affrontare con davvero un semplice gommone questa comunque impresa, questi diversi chilometri soprattutto i percorsi attraverso l'inghia fluviale e questo per poi risalire tramite il mare dunque diciamo che questo ha dato molto valore a quella che è stata la loro impresa Bene, allora tu, tanto grazie è stata, tu parlavi dei cinque argonauti che a causa della Bora sono stati spostati fuori rotta e che avevano avuto appunto la grande paura di andare dall'altra parte, di finire nell'Istria che quella volta era Jugoslava e quindi c'era una grande paura ma bisogna ricordare che in quel periodo infatti in un articolo appariva il nome di Bella c'era stato il momento di grande enorme tensione tra l'Italia, la Repubblica Italiana e la Repubblica Jugoslava proprio perché c'era stato un momento di attrito e io ricordo che in quel periodo in quell'agosto e forse per questo anche il sindaco di Trieste non ha ricevuto i cinque argonauti c'era l'esercito italiano schierato lungo il vallone di Gorizia noi da Trieste andavamo lungo la strada che portava da Trieste a Gorizia si chiama il vallone e si vedevano i soldati italiani dalla parte dell'Italia con i cannoni puntati verso la Jugoslavia e i cannoni jugoslavi puntati verso l'Italia c'è stato un momento di grandissima di grandissima tensione proprio perché si parlava di la sorte di Trieste non era assolutamente sicura nulla era stato ancora deciso e Tito aspirava ancora a ritornare a Trieste dopo i famosi 42 giorni dal primo di maggio al 12 di giugno del 1945 ricordiamo che quando se ne vanno i titini la Jugoslavia l'esercito jugoslavo di occupazione a Trieste di allora se ne vanno convinti di ritornare dopo il trattato di pace a Trieste e se ne vanno perché come tu scrivi poi anche tu nella tua tesina il porto di Trieste deve essere un porto libero in modo che vi potessero attraccare le navi soprattutto americane e inglese per poi rifornire verso l'Austria l'esercito americano e inglese in Austria è per questo che Trieste viene liberata dai titini anche là non idudiamoci gli ideali purtroppo non esistevano neanche allora come tuttora vediamo oggi non esistono quindi il periodo in cui loro gli argonauti fanno questo blitz questa impresa splendida questa impresa splendida e per fortuna di successo con successo è un periodo di grande tensione e ricordiamo ancora una cosa che di Trieste per l'Istria si parla fino al 26 ottobre 1954 quando Trieste ritorna per la seconda ritorna all'Italia da quel momento e poi arriviamo ad Osimo al 15 novembre del 1975 ma già in quel in quell'asso di tempo di Trieste e dell'Istria si comincia a parlare pochissimo anzi si continua a parlare pochissimo ci sono di mezzo grandi grandi interessi economici per cui si cominciano a fare affari con la Jugoslavia e chiaramente la situazione la questione di Trieste passa in seconda linea dopodiché avranno subito dopo quindi se gli Argonauti fanno quest'impresa dal 2 facciamo il 18 di agosto perché c'è la presentazione la preparazione tutto quello che serve e guarda sul ponte la gente che li vede passare bellissima fotografia bellissima e ricordiamo che poi a novembre del 1953 ci saranno i morti di Trieste quando ci saranno i sei morti e uno settimo che muore dopo 60 giorni di cui poveretto nessuno dice il nome nessuno lo nomina completamente dimenticato perché ha la fortuna di vivere ancora 60 giorni ma di morire dopo 60 giorni quando oramai la crisi se non è superata e certamente insomma si era regolarizzata volenti o nolenti i triestini di nuovo la situazione a Trieste era tornata diciamo nella normalità tutto ritorna eccezionale e tu di nuovo nella tua tesina lo dici quando nel 1954 il 5 ottobre mi pare c'è il memorandum e viene annunciato a Trieste che Trieste diventerà italiana allora io quella volta ero in piazza Unità anche quella volta e non c'era tantissima gente il ricordo è molto vivo ma eravamo là a sentire e per noi esuli per noi ma per tutti i triestini è stata un'emozione enorme grandissima per cui l'impresa degli Argonauti è stata anche quella una preparazione al ritorno di Trieste all'Italia è stata proprio diciamo fatta nel momento più opportuno loro in Italia si sapeva di questa grande tensione si sapeva che c'era l'esercito gli eserciti l'uno l'un contro l'altro armati e schierati e quindi si vivevano veramente momenti di grande grande tensione non parlo di Trieste poi che era là in mezzo e tu potresti mettere io ve ho visto tra le fotografie c'era una bellissima fotografia sul posto di blocco di Trieste dove c'è scritto qua qui finisce qui comincia il territorio libero di Trieste nella tua tesina c'è non so se riesci a trovarla non ce l'hai qui no no avevo è nella tesina probabilmente esatto è completa nella tesina qui ho fatto proprio un estratto è stata la loro esperienza sì perché nella mia tesina sostanzialmente mi sono appunto ai tempi bisognava diciamo collegarla a più argomenti comunque ho trattato anche la letteratura italiana molto bello il periodo storico grazie il periodo storico poi te lo svevo James Joyce anche Sidgmund Freud perché era comunque per quello che hai detto tu prima era un crocevia un crocevia di conoscenza un crocevia internazionale Trieste è sempre stato e dunque mi è parso diciamo mi ha dato caso vuole io credo che nulla viene per caso diciamo questa avventura che hanno fatto questa impresa questi cinque giovani comunque mi ha aiutato nell'individuare quello che è stato il mio argomento per la tesina della maturità e comunque posso dire che è un periodo della storia moderna che comunque va sensibilizzato perché comunque poi riguarda principalmente la storia nostra italiana dunque davvero l'ho ritenuta mi è piaciuto anche documentarmi approfondire questo tema soprattutto da un punto di vista prettamente storico però comunque era importante no ma è molto importante anche cioè tu nel 2012 quindi oramai c'era stato il giorno del ricordo oramai si si parlava di più della nostra storia si portava di più a conoscenza si è potuto andare a parlare in qualche scuola è diventata più argomento pubblico ecco mentre fino al 2004 con l'istituzione del giorno del ricordo non se ne parlava quasi o ne parlavamo tra di noi noi esuli a livello nazionale se ne parlava ancora poco ecco veramente il giorno del ricordo è stata un'istituzione decisamente molto importante ma comunque loro sono stati bravissimi e tu sei stato bravo come loro perché sei riuscito a tirar fuori un argomento che neanche anche nelle scuole viene trattato molto molto poco soprattutto nel 2012 e avere anche la la forza di trovare di parlare di un argomento quasi sconosciuto guarda che io vado nelle scuole e vado a parlare vado a far memoria faccio anche la nostra storia e mi dicono signora non sapevo assolutamente nulla ancora adesso e quindi affrontare quell'argomento è stata veramente è stata una cosa notevole ti ringrazio ti ringrazio ma penso sia stato anche un arricchimento per i tuoi compagni e per i tuoi professori credo no? sì 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 è stato molto diciamo hai cioè ha dato comunque conoscenza approfondito argomenti che non sempre vengono trattati meglio quando ho frequentato io il liceo ci si fermava poco dopo la guerra mondiale c'erano degli accenni però diciamo che da un punto di vista ci facevamo comunque ci andava sì è vero anche agli anni 70 però comunque sempre da un punto di vista generale non nello specifico della storia italiana certo comunque la storia è sempre piaciuta dunque è stato un modo per approfondire e ampliare le mie conoscenze soprattutto della storia del mio paese dunque alla fine si sanno sempre tanto degli avvenimenti internazionali questo mi ha permesso anche di portare alla luce e anche ai miei i miei professori che mi hanno ascoltato durante il dibattito della mia del mio esame orale questi questi argomenti appunto in particolare poi proprio anche perché dopo ci si è potuti concentrare e confrontare su quella che era la città di Trieste appunto il badisco che permetteva ampli collegamenti con con varie discipline dunque con l'inglese con la storia con l'italiano stesso con la filosofia e dunque è stato ribadisco bello curioso e anche interessante vedere come da una semplice città si è potuto ampliare il panorama di conoscenza nei vari ambiti nelle varie materie da due città da due città da due città esatto da due città sì Tiziano tu vuoi qualche domanda qualche considerazione devo fare sempre se mi riesci a sentire sempre che ti si senta anche non so se mi sentite voi male male ma si parli un po' più forte forse sì ripeto purtroppo non ho sapato il collegamento e ho perso i primi dieci minuti ecco poi dopo mi riguarderò la registrazione certo la storia è molto molto bella e sono contento di averla sentita anche così in diretta una storia poco conosciuta che io inviterò anche Francesco qua nei dintorni a un'era di persona poi a raccontarla anche a un altro pubblico mi hanno già contattato con i comuni per il giorno del ricordo per cui se sei disponibile io propongo anche il tuo racconto e comunque mi è interessante nella nostra storia nella storia italiana per cui ti ringrazio tantissimo della della di della di 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 della di di ringraziarvi è vero no no ma è stata una presenza preziosa per tante cose perché innanzitutto perché un giovane si è occupato grazie al nonno ecco la trasmissione e le radici che saltano fuori per noi le radici sono fondamentali ecco anche per te mai dimenticare le radici assolutamente sono una cosa fondamentale per tutti quanti se non si ricorda sparisce tutto per cui è gravissimo assolutamente hai da aggiungere ancora qualcosa Francesco volevi mi volevo ringraziare davvero perché da un semplice ricordo che ho avuto la possibilità di condividere attraverso il quotidiano locale della provincia di Cremona comunque ha riscosso interesse dunque questo è l'aspetto che più mi fa piacere perché tramite un ricordo che condivido in famiglia con i miei genitori con la mia famiglia i miei fatti cari comunque di una di un'esperienza che hanno atto questi cinque giovani coraggiosi comunque è stato qualcosa di significativo come ho detto durante la presentazione pur essendo un semplice ricordo e anche loro doveva essere visto un semplice gesto stava a significare quello che era i valori che li rappresentavano e che li hanno spinti a fare questa attraversata certo dunque mi era mi era parso appunto un modo per poter per poter ricordare in memoria di mio nonno di quello che che ha fatto comunque anche in giovane età e dunque era stato davvero molto intraprendente certo aspetta che c'è forse una domanda Claudio niente non riesce non riesce ha perso la domanda peccato dispiace non riusciamo a successivamente sono sempre disponibile va bene rispondervi aspetta aspetta se riesce ecco se riesce a chiudere un attimo aspetta che forse vediamo se partecipanti in sala d'attesa Francesco no Pizzano eh no sono questi ma si dovete promulterare con eh va bene venendo ah ma allora la domanda era eh sì ti sentiamo sì la domanda era se hai trovato resistenza nel trattare questo insolito tema aspetta facciamo una cosa si può chiamare chi era modesto abbandonato allora aspetta Tiziano ti sente malissimo adesso proviamo a chiamare siccome il numero della professoressa che ha fatto questa domanda purtroppo Tiziano ti si sente molto male adesso chiamo un attimo la professoressa e ce la facciamo fare in diretta via telefono adesso se abbiamo un attimo di pazienza allora un attimo solo eh dai vediamo se ci risponde eccola qua momento di pazienza modesta grazie allora ascolta Claudio non riusciva si Claudio non riusciva a recuperare la tua domanda adesso metterti con non riuscivamo allora prova a fare la domanda non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare ecco ora prova a fare la domanda sì io volevo chiedere io volevo complimentarvi con questo ragazzo che ha una stina bellissima diciamo il tempo non sento il tipo me mi volevo chiedere quando ha proposto questo tema della comunità in classe all'interno della scuola mani che fuori ha trovato qualche resistenza oppure è andata lì nel senso che ha trovato tutti concorsi nel tema trattato questo lo capite perché è molto spento nemmeno tanto per i nostri conosci ma proprio perché chi conosce questo della storia si creano così delle partiere e poi tranquillamente con la conoscenza la spiegazione si orse passano volevo sapere che si ha la prima reazione per il tema proposto bene grazie ha sentito tutto francesco grazie modesta grazie adesso ti risponde ciao spenotti forza francesco era una domanda ho trovato curiosità fondamentalmente ho riscontrato curiosità da parte dei docenti e poi considerate che comunque era sempre un lavoro individuale principalmente dunque avevo condiviso con con qualche amico e anche con la classe si menzionavano quelli che erano i lavori che gli argomenti che ognuno trattava nel proprio esame nella propria tesina la propria tesi maturità però diciamo che sostanzialmente ho trovato molta curiosità e anche molta approvazione da parte dei docenti perché trovarono molta fluidità negli argomenti nel senso che gli argomenti erano ben collegati questo mi hanno sottolineato appunto per quello che dicevo prima per il discorso che c'era un punto di riferimento ovvero che era la città di Trieste dopo per quanto riguarda sicuramente la professoressa di storia c'è stata da parte sua interesse nel capire diciamo anche una spinta comunque nell'approfondire quelli che erano per me semplici frammenti di articoli che ho ritrovato quasi casualmente nella casa dei miei nonni paterni e dunque diciamo ecco c'è stato più che solo aspetti positivi ecco non aspetti negativi di indifferenza o altro c'è stato un appoggio perché appunto era un tema che non era stato trattato in poco o diciamo in maniera proprio parziale per quanto riguarda l'aspetto storico dunque posso dire che davvero è stata ben vista comunque l'argomento ma soprattutto anche perché si trattava di un ricordo personale diciamo che l'introduzione me lo ricordo ancora non come fosse ieri però comunque come un ricordo molto vicino era proprio stato il racconto in maniera breve di quello che era stata appunto la loro esperienza la loro impresa per poi permettermi di collegare tutte le altre materie delle che erano previste che erano state estratte comunque per la maturità di quell'anno bene era la stessa domanda che ti volevo porre anch'io proprio perché insomma anche la tua insomma sei stato molto bravo sei stato molto bravo comunque Trieste è il personaggio più singolare la città di Trieste come dicevi nella tua tesina Trieste è il personaggio più singolare di Trieste diciamo è la città di Trieste il personaggio più singolare ho avuto un modo di visitare davvero molto molto carino nel cinque anni fa più o meno ho visitato Prima Grado e poi Trieste è davvero molto molto bella è molto ricca di significati storici eh sì Trieste sì è veramente così c'è qualcos'altro? no allora allora non ci resta che chiudere aspetta qua devo lanciare la prossima conferenza intanto grazie Francesco grazie perché è stata una bellissima esperienza eh avere a che fare poi con i giovani interessanti come te sempre importante per cui ti ringraziamo ancora e chi lo sa che non ti sfruttiamo ancora Tiziano ecco allora devo lanciare la prossima conferenza che non trovo più ma comunque vabbè fa niente giovedì 26 eh ottobre grande data importante per noi è il giorno di Trieste del ritorno di Trieste all'Italia è proprio giovedì per cui noi avremo con noi il l'avvocato Paolo Sardo Salvertini presidente della Lega Nazionale di Trieste che ci parlerà 1953 1954 quando la questione di Trieste infiammava gli italiani vedi infiammava gli italiani ha infiammato anche i cremaschi quindi e quindi oggi è stato diciamo propedeutico alla settimana successiva a quello che faremo e che diremo sia il 26 di ottobre che il 2 di novembre dove parleremo dei morti di Trieste ma è prematuro parlarne quindi grazie ancora a tutti quanti ci vediamo e ci risentiamo la prossima settimana ancora grazie Francesco veramente con tutto il cuore grazie grazie Tiziano a presto allora a tutti quanti grazie ancora grazie grazie a voi ciao a tutti